Se il mio compagno quitta il video finisce su Fortnite in Duo Ok ragazzi quindi la sfida di oggi non so se l'avete già vista, se l'avete letta, non ho idea ragazzi comunque Se il mio compagno quitta il video finisce su Fortnite in Duo Prima di iniziare ragazzi volevo ricordare a tutti di inserire il codice creatore porto nello shop se non l'avete ancora fatto E direi quindi di startare, di vedere se riusciamo a trovare un tizio che non esca dal game Dato che è la quarta volta che ci provo e costantemente stanno uscendo Quindi la quinta ragazzi come va va Ok ragazzi siamo con Jorson e ci stiamo dirigendo verso gli agensi Io so che lui è la persona che ci porterà la vittoria, tra l'altro anche il microfono Quindi teoricamente le persone che di solito utilizzano il microfono non ne escono E so che ragazzi Jorson ci porterà proprio la vittoria così Tata, proprio easy Allora vediamo subito che armici sono sull'agenzia Io vedo giusto la pistoletta quindi direi di buttarci dentro senza troppi pensieri Eh sì credo proprio di sì Entriamo, chiudiamo tutto, belli barricati Ci abbiamo un po' di cose anche per eludere i nemici all'inizio Spero che il mio compagno non cada a terra, non si faccia distruggere in poco tempo Ok mi fa molto piacere Tu da dove sei uscito? Perché mi stavi alle spalle? Inquedante Non so questo dove abbia lanciato sta roba Musica 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 Musica